il piano scuola è ricevibile nel merito e nel metodo l'assessore regionale all'istruzione politiche sociali e giovanili della campagna lucia fortini boccia il documento del miur abbiamo lavorato anche di notte ma il tempo che ci è stato dato per esaminare discutere le linee guida attese da mesi era veramente troppo poco abbiamo chiesto una proroga di 24 ore prima di sottoporlo alla conferenza stato regioni per l'accordo quanto al merito chiarisce la fortini non ci sono nel piano indicazioni chiare sui tempi i ruoli e le responsabilità la posizione della campagna resta dunque molto critica e rigida abbiamo presentato richieste di emendamenti su questioni per noi irrinunciabili innanzitutto l'incremento di organico di fatto per il personale docente e ata è assurdo infatti immaginare il potenziamento dell'organico facendo ricorso a volontari esperti e associazioni così si mortifica la didattica a scuola servono docenti e l'organico va potenziato figure esterne possono affiancarlo ma mai sostituirlo chiediamo quindi la proroga a partire dal primo settembre di tutti i contratti in essere per il personale docente non docente fino al nuova nomina per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità degli enti locali che devono essere espressamente indicati e inoltre fondamentale stabilire i tempi in cui fare la ricognizione delle criticità e mettere in opera le soluzioni ancora i fondi servono ulteriori fondi per la formazione per l'edilizia visto che la copertura economica per interventi di manutenzione sottrae fondi all'acquisto di dpi e altre forniture e servizi per la ripresa dell'attività didattica previste dalla nota ministeriale 1033 dello scorso 29 maggio e per l'acquisto di arredi banchi monoposto e armadi a tutt'oggi inoltre manca una definizione di edilizia leggera quanto alla data del ritorno a scuola l'assessore regionale ribadisce che la campagna fermo restando la data del voto fissata al 20 e 21 settembre non potrà essere prima del 23 settembre a partire dalla fine di agosto poi verrà eseguito lo screening con tamponi su tutto il personale scolastico docente non docente una popolazione di circa 100 mila persone si tratta del secondo step di controlli dopo quelli già eseguiti sul personale coinvolto negli esami di maturità che la regione campania unica in italia ha deciso per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica grazie a tutti grazie a tutti